Siamo al Fighters Club Capriolo con Enrico Pienzi, campione europeo di kickboxing WFC. Allora, tu hai un paio di guanti da professionisti della Vandal, in pelle con i lacci. Qual è la particolarità di questi guantoni? Stavo appunto provandoli perché vedo che comunque calzano molto bene, li sento bene come quasi che sono a mani nude. Vediamo un attimo di mettere anche l'altro. Io sento che vanno molto bene, sono belli morbidi, riesci a chiudere bene le mani, stringere bene i pugni, che è quello che conta per avere il colpo migliore. E quindi basta solo provarli sul ring adesso. Allora, la prossima gara? La prossima gara vedremo di utilizzarli, il sesto, il 28 ottobre, e speriamo di chiuderla magari con un KO, no? Allora, buon KO e Enrico Pienzi con i guanti Vandal professionali. Grazie. A voi.